cari amici di butto cultura oggi tra le pillole di storia locale vi vorrei citare alcune vicende del tutto originali raccontate a noi da persone che purtroppo non abbiamo più che si narravano butto ai più giovani durante le veglie invernali alla luce del fuoco della stufa che creava strane ombre sulle pareti della stanza mentre fuori il vento si bilava tra i rami dei castani storie che abbiamo tratto dal primo libro pubblicato su butto nel 2002 e dicevo storie che vedevano in animali misteriosi o nel diavolo i soggetti ricorrenti quando durante le veglie si parlava della spaventosa brasua rapace notturno dal verso terrificante che molti dicevano di aver udito ma nessuno mai visto il ritorno poi a casa di notte era particolarmente rapido e specialmente per i più giovani vissuto con il batticuore nonostante che gli antichi buttesi fossero veramente molto devoti poteva succedere che qualcuno durante la recita del rosario uscisse di casa dove era andato in veglia per non partecipare alle preghiere si narrava che uno di questi incontrò nei pressi di un casone vicino alla chiesa addirittura il diavolo che tra fuoco e fiamme lo chiamò dicendogli con timbro tonante atunin tra poco tempo ti vignè cummi terrorizzato l'uomo torno a casa e si mise a letto e si dice che dopo qualche tempo morisse un altro buttese poco religioso che si comportava un po' come il precedente al momento della recita del rosario un giorno vide nei pressi della croce in località matelin un gatto che lo osservava egli lo apostrofò bonariamente dicendogli o me mignin ma passata la croce il gatto gli si rivolto contro soffiando ferocemente lui lo mandò via giunto a casa l'uomo però trovò all'interno della casa lo stesso gatto e lo mise fuori dalla porta andò poi in camera e si accorse che il gatto era ancora lì spaventato chiamò aiuto ai suoi familiari insieme fecero uscire il gatto quello strano animale ma appena rientrato in casa lo ritrovò probabilmente questo era il diavolo che la salì e lo uccise con un morso alla gola si raccontava poi che nei pressi del canale d'urebulin che scorre nella zona di terme in una gola stretta e scura per l'ombra dei castagni si poteva facilmente incontrare uno sconosciuto che indossava calze rosse un gran cappello si spostava rapidamente sulle ciappe compiendo lunghi passi secondo alcuni poteva trattarsi del diavolo un abitante di consiget si rifiutava di andare a raccogliere le castagne in quel luogo un altro buttese volle permutare con un compaesano non superstizioso il proprio bosco che confinava proprio col canale d'urebulin si racconta poi un'altra storia particolare dove il diavolo è sempre è sempre presente magari in una processione di persone un buttese era senza un braccio e fu informato che avrebbe potuto riaverlo se si fosse recato di notte portando un gatto con sé nel viottolo che collega l'isorno con groppo e gli prese il gatto in piena notte andò dove gli era stato suggerito dopo poco tempo e vide avvicinarsi una processione di persone una di queste gli disse con voce zenebrosa prega per quello gatto bardu e bardun senute fasso cugnussi e chissun si accorse allora che quello che gli aveva parlato era un morto e l'uomo senza il braccio scappò via sconvolto dall'incontro sembra che un altro abitante di consigliato certamente molto coraggioso invece incontrato questa processione dei morti vicino alla focetta era solito alzarsi di buon'ora per portare a spalle sacchi di carbone o di legna avarese la vista della processione non lo spaventò e decise di continuare il proprio lavoro anticipando la sveglia ma anche il giorno successivo fece lo stesso incontro testardo il giorno dopo si alzò in piena notte ma vide ancora la processione dei morti da allora si dice che portasse sempre il proprio carico solo alla luce del sole anche per la fisarmonica il ballo era uno dei momenti più piacevoli però si diceva i vecchi dicevano ai giovani attenzione non rimanete fuori fino a tardi e si racconta che un giovanotto di buto nel periodo di carnevale era solito recarsi a ballare nei paesi vicini proprio con la brutta abitudine di rimanere fuori fino a tardi e rientrare a casa solo la mattina dopo un giorno nei pressi della località terme senti il suono di una fisarmonica provenire da un casu ducariola vi si recò immediatamente vede belle ragazze che ballavano con ball di giovanotti e anche lui si aggregò al gruppo alle cinque del mattino uno dopo l'altro tutti i ballerini sparirono e lui sentì una voce lontana che diceva balla forte balla cian tte e osse e tutti luciano il giovanotto capì di aver ballato con i morti e perse tutti i dallo spavento e da quel giorno non tornò più a casa oltre la mezzanotte direi che per ora potrei ancora raccontare magari perché quel tratto di viottolo che si trova vicino alla chiesa si chiama ligetta c'è un contadino risaliva la strada dalla località ricco verso la crocetta portando un capretto sulle spalle ma più saliva e si avvicinava alla croce più il capretto diventava pesante il contadino gli disse ti è miga udiavù che ti pesi tanto e lo cacciò a terra e questi esplose formando la ligetta era proprio il diavolo camuflato da capretto che scoperto aveva causato lo scoppio tra fuoco e fiamme l'ultimo aneddoto sul sul castello di butto il castello di butto sorgeva su una rocca in vista di quello del salino si narra che si è sotterrata sotto di esso una campana d'oro che suonerebbe ogni cento anni un buttese nel pomeriggio si era addormentato lì proprio nella zona dove si pensa che fosse situato al castello e all'improvviso si svegliò sentendo un suono come di campana scappò via spaventatissimo grazie un caro saluto a tutti